Riprendo la linea per parlare di un argomento veramente interessante, nel senso che a denunciarlo così potrebbe sembrare una cosa romantica, ma invece come vedrete è una cosa molto tecnica, ed è, parleremo della scienza della forza, ma fondamentalmente andremo a vedere come il pensiero in qualche modo possa influire sul muscolo e come il muscolo sia gratificato, diciamo, se è oggetto di qualche pensiero. E ce ne parlerà Giuseppe Coratella che spero sia con noi. Ciao Giuseppe. Buongiorno Paolo, ciao a tutti. Mi sono espresso bene? Ti si è espresso benissimo. Voglio spiegare chi sei e poi tu aggiungerai, perché avrei talmente tante cose da dire su di te, che mi limiterò al minimo dicendo che sei un docente della scuola di scienze motorie all'Università degli Studi di Milano, quindi un prof dove prof non sta per profugo assolutamente, e sei un personal trainer professionista. Lo sono stato, sì. Perfetto, quindi adesso voglio sentire come tu ci illustri questo aspetto così particolare. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie. Io intanto desidero ringraziare il Coni Sardegna, Gianmario Migliaccio per l'enorme lavoro svolto e anche Paolo per avermi presentato. Inizialmente ho avuto un po' di difficoltà a collegarmi, mi hanno chiesto una parola chiave. Poi ho provato a dire Cannonau, ma l'ho lasciato passare fortunatamente, quindi diciamo che tutto sommato la storia è andata bene, sono qui e possiamo parlare di scienza della forza. Se l'ospite mi abilita a condividere lo schermo, io posso parlare un pochettino di quello che è la scienza della forza. Eccomi qua, spero che vada. Datemi un ok. Perfetto. Allora, volevo parlarvi un pochettino di quello che è la scienza della forza e in particolare volevo andare a cercare di capire un po' quello che era la difficoltà di definire la scienza della forza. La scienza della forza è un po' mettere una marea di pezzi di puzzle a posto, cioè non è proprio facilissimo comprendere tutto quello che c'è sotto la contrazione muscolare e la massima contrazione muscolare, la massima espressione di forza. Dico che non è semplice perché molto spesso, soprattutto altrove, si tende a banalizzare un pochettino la forza e tutte le variabili che ci stanno sotto di esse. Giusto per avere un'idea molto, molto, molto vaga di quello che c'è sotto la forza, dobbiamo andare a prendere la morfologia muscolare, dobbiamo prendere la coordinazione neuromotoria, dobbiamo prendere l'architettura muscolare, dobbiamo prendere l'endocrinologia, eccetera, eccetera, eccetera. Giusto per avere una minima idea di quello che è la parola scienza all'interno del campo della forza, che è un campo bellissimo perché di fatto non c'è nulla che non dipenda dalla forza muscolare. Quindi dalla prestazione sportiva alla vita quotidiana. Da quest'anno sono titolare del corso di metodologia dell'allenamento, direi metodologia dell'allenamento qui a Milano. Quando ho provato a riassumere tutte le variabili che noi siamo in grado di manipolare durante un allenamento, me ne sono uscite 30, tra variabili intra-esercizio, inter-esercizio, intra-sessione o intra-esercizio. Ho evitato le variabili in tre ciclo perché altrimenti poi avrei dovuto parlare per altre 50 ore oltre il corso che ho già preso. Questo per darvi un'idea di quanto sia davvero complicato. Durante il corso, per esempio, parlavo anche di come manipolare ciascuna variabile e di come manipolando ciascuna variabile si esce poi ad avere dei risultati che dal punto di vista strutturale, dal punto di vista biochimico, dal punto di vista morfologico, dal punto di vista neuromotorico, poi facciano la differenza. Siccome siamo al men's fit, mente, allora ho dovuto, mi sono sentito in dovere di specificare quello che è la parte mentale della forza. E ho chiamato in causa uno solo dei pezzi del puzzle che compongono poi l'allenamento della forza che si chiama muscle-mind connection, cioè la connessione che si ha tra mente e muscolo. Allora, in sostanza la muscle-mind connection dice questo. Ma se durante un esercizio qualsiasi io pensassi a uno dei muscoli o a un gruppo muscolare che di fatto esegue quel movimento, che partecipa a quel movimento, cosa succede all'attivazione di quel muscolo stesso o di quel gruppo muscolare stesso? Questa era un'idea che io, un'idea non scientifica, ma derivata dalla prassi, nel mio passato di personal trainer, quando davo indicazioni ai miei clienti, chiedevano di concentrarsi su quel muscolo piuttosto che su quell'altro per sentirlo, per sentirlo lavorare. Non ne sapevo niente di muscle-mind connection, eccetera. E allora, questo è passato un po' di tanto tempo che non faccio più il personal trainer professionista, ma sono cinque anni. E invece volevo parlarvi di quella che è la mia ultima ricerca scientifica da sotto questo aspetto. Cioè, se noi chiediamo a qualcuno che fa lo squat di focalizzarsi su un determinato gruppo muscolare, poi come questa istruzione si riflette sull'attività globale dei muscoli che sono connessi alla prestazione di squat? L'istruzione che avevamo dato nella fattispecie dello squat è una che si dovrebbe dare spesso, cioè quella di focalizzarsi sugli muscoli posteriori degli arti inferiori in modo tale da sentire, ecco, diciamo, volgarmente, molto più praticamente, il glutei e la parte posteriore della coscia. Andiamo a vedere un attimo quello che ne è venuto fuori, perché la storia è carina. Allora, qui vedete in bianco abbiamo la condizione con l'istruzione specifica, mentre in nero abbiamo la condizione con l'istruzione neutra. L'istruzione neutra era fai lo squat, come sai farlo. Parentesi importante, l'abbiamo visto in persone che lo squat già lo sapevano fare e quindi non abbiamo avuto un learning effect. In sostanza, se vediamo l'attivazione del grande gluteo, del bicipite femorale, muscoli che per l'appunto si trovano nella regione posteriore della coscia, vediamo come sia ad basso carico che ad alto carico ci sia una differenza significativa a livello di attivazione muscolare. In sostanza, si attivano di più. Abbinato a questa, che accadeva durante la fase concentrica, abbinato a questa abbiamo una simultanea disattivazione del vasto laterale. Quindi lo schema motorio è probabilmente cambiato. Cioè, mentre io dico, focalizzati sulla parte posteriore degli atti inferiori, la parte anteriore, il vasto laterale, quindi a essere simbolo del quadricipito, il vasto laterale diminuiva l'attività. È interessante come i muscoli tipicamente posturali dello squat, tubiale anteriore e gastroclima mediale, fossero molto più attivi durante la fase eccentrica, durante la discesa, soprattutto quando vieneva data l'istruzione di spostare il focus indietro. Questo perché molto probabilmente il peso era andato indietro e c'era bisogno di un maggiore controllo globale, innanzitutto dai muscoli più importanti che controllano il nostro equilibrio statico, che sono il tibiale anteriore e quello del popaggio. Quindi funziona questa roba qui? Beh, a questo punto mi sento di dire, ovviamente non solo sulla base di questo studio, ma sulla base di tanti altri studi che hanno visto altri esercizi, beh, sì, sembrerebbe funzionare la storia. Quindi abbiamo visto come, per esempio, la muscle-mind connection sia nei muscoli prime movers, cioè nei muscoli più importanti, dell'esecuzione pura del gesto sia fortemente focalizzata nella parte concentrica e i muscoli stabilizzatori invece nello scuoto intervengono specialmente nella fase eccentrica per evitare di andare a sedere, a fingere di sedere a terra. In sostanza è questo il discorso. Questo perché probabilmente c'è stato uno spostamento posteriore dell'equilibrio. Ma questo è un utilizzo singolo della muscle-mind connection. Ma che succede se la utilizziamo ogni volta che ci alleniamo? Mentre l'utilizzo singolo ce l'abbiamo per tanti esercizi, ci sono vari studi che l'hanno visto, a tutt'oggi, che io sappia, a meno che non l'abbiamo pubblicato due minuti fa, questo è l'unico studio che ha visto cosa accade utilizzandola per lungo termine. Vi faccio un riassunto dei risultati. E il riassunto dei risultati dice che quando ci si allena a lungo termine di forza e la forza, ovviamente, si migliora sia la forza che l'ipertrofia, ma un focus mentale sembra essere, sembra favorire l'ipertrofia, mentre invece non dà alcun vantaggio a quello che è la parte di forza. Questo perché probabilmente attivare per più tempo, e per maggiormente più tempo, un determinato muscolo, ha dato quello stimolo neurale che poi si è trasformato in ipertrofia. La muscle-mind connection, quando è buona e quando non è buona. Allora, perché questo, quando è buona e quando non è buona? Perché non è che è una panacea e la dobbiamo usare sempre. Dal punto di vista però, ovviamente, abbiamo un aumento dell'attività muscolare, un maggior controllo dell'esercizio e chiaramente una maggiore ipertrofia se è andato a lungo tempo. In sostanza, il problema principale è che quando noi invece andiamo a usare la muscle-mind connection, cioè andiamo a pensare con il muscolo, noi diminuiamo l'economia del gesto, perché aumentiamo le ecocontrazioni e facciamo un'attività muscolare che non era necessaria per quel determinato carico, qualsiasi esso sia, carico esterno, o corsa, o bici, eccetera. Quindi, in sostanza, si diventa meno economici, si diventa anche meno rapidi, perché soprattutto nelle incontrazioni veloci, quello che conta è una spressione della forza massima invece di pensare a quello che è. Quindi, la muscle-mind connection è un'arma che abbiamo per cercare di capire un po' come la mente, il pensiero, può influire sulla parte muscolare. Ma e se invece togliessimo l'interazione? E se invece parlassimo di allenarsi o col muscolo o con la mente, che cosa ne viene fuori? Apriamo il concetto di motor imagery practice, cioè immaginiamo di allenarci. Cioè, non è solo io sto allenando, non è come quello di prima, la muscle-mind connection, che io mi alleno, penso a un muscolo, mentre mi sto allenando, è il muscolo migliore. No, io qui non mi alleno, ma penso soltanto all'allenamento. Funziona? Esiste innanzitutto, funziona. Andiamo a prendere una meta-analisi. Una meta-analisi è una raccolta di studi. Gli studi hanno già, come dire, hanno già subito un'enorme e lunghissima fase di controllo per poter essere poi pubblicati. La meta-analisi è un qualcosa che li riassume e vediamo un pochettino quello che succede sul motor imagery. vi aiuto a leggere questi grafici. A sinistra abbiamo, prendete il grafico A, a sinistra abbiamo ciò che va a favore del controllo, a destra abbiamo ciò che va a favore della motor imagery, dell'immaginare l'allenamento. Il rombo verde in basso, per ogni grafico, se si trova tutto da un lato, certifica che la totalità degli studi di fatto ha un, da una maggioranza di effetto verso un lato e piuttosto che l'altro. Allora, il grafico A ci dice che il motor imagery, immaginare il movimento è comunque meglio che non fare nulla. Cioè, se io immagino, adesso sono qui seduto, immagino di fare squat, a lungo termine, dopo qualche settimana io migliorerò la prestazione di squat. Ovviamente il grafico B ci dice una banalità, cioè che se ci alleniamo per davvero è molto meglio che pensarlo. Quindi, come vedete, dall'ultimo quadratino che si trova in basso. La cosa interessante è che anche il grafico D, ovviamente, ci dice che la fisica di activity è molto meglio che non fare nulla, ma la cosa interessante è che se noi aggiungiamo l'immaginazione dell'allenamento all'allenamento vero e proprio, non abbiamo vantaggi. Quindi, la sostanza è questa. Se non possiamo fare nulla, pensiamo di allenarci e comunque miglioriamo. Se possiamo fare qualcosa, alleniamoci. In un momento come questo, laddove allenarsi è complicato, è come sentivamo prima. La gente, o meglio, il nostro governo fa di tutto per non farci allenare. Questa parte qui può essere un'arma in più, laddove vogliamo innanzitutto preservare o aumentare la nostra prestazione. ne siamo impossibilitati a farlo continuativamente. Il sistema nervoso è un'arma, quindi, che è formidabile per allenare la forza, perché non deriva, la forza non è la massa muscolare. Certo, la massa muscolare c'è, è un determinante importante, ma ne abbiamo visti nel grafico precedente, ne abbiamo visti davvero, davvero tanti, i determinanti che possono influire sulla massima forza. Il sistema nervoso, nella sua complessità, dalla parte più alta, che è la parte corticale, la parte volontaria, quella del pensiero, fino alla parte più periferica, quella spinale, quella proprio periferica a livello di giunzione neuromuscolare, questo dà sicuramente un enorme aiuto allo sviluppo della forza. Non occorre essere forzatamente grossi per sollevare tanto peso. Pensiamo ai sollevatori di peso di categoria, che ovviamente sono fortissimi e hanno la capacità, pur essendo leggeri, di sollevare un'enorme quantità di chiude. Ritorno a dove ero partito. Gian Mario mi aveva chiesto di parlare di scienza, di forza. Mi piaceva sottolineare l'idea che molto spesso sento qualcuno dire fate questo coso, io so tutto di allenamento di forza. Ecco, allora se il coso me lo tiene il personaggio che sta qui va bene, allora potrei anche fidarmi della persona. Altrimenti, io, come diceva qualcuno, se fossi in voi mi girerei e correrei veloce prima che questo mi raggiunga perché probabilmente non si rende conto dell'enorme complessità che c'è dietro la scienza della forza. Io vi ringrazio tutti, vi ringrazio per essere stati qui, vi ringrazio ancora Iconi Sardegna, Gianmario Migliacci e te Paolo per avervi presentato e lascio a te la linea. Grazie, grazie mille a Giuseppe, esposizione magistrale ma non aveva un minimo dubbio e spero che sia molto chiaro come sia stata estremamente esplicativa, diciamo, quindi assolutamente non di natura scolastica ma piuttosto in natura pratica e quindi lasciandoci vari take-home message. E io vorrei chiederti qualcosa sotto questo punto di vista, forse forse ad avere soltanto qualche chiarimento in più su qualcosa che hai già detto. Allora, per quanto riguarda l'effetto comunque il coinvolgimento muscolare che determina la mente quando va a pensare a quello che sta facendo quel muscolo, quanto importante è l'azione dei neuroni specchio su questo? Allora, sembra strano, non c'è tantissimo su questo proprio. Per quello te lo chiedevo perché so che non c'è molto e speravo che tu me lo dicessi. No, purtroppo le mie competenze neurofisiologiche non sono così elevate da raccontarti questo. Però è credibile secondo te che ci sia un coinvolgimento, diciamo. È pensabile ma non è detto perché può essere anche dovuto all'azione della corteccia, all'azione pura della corteccia in congiunzione con anche sicuramente mi credo una parte dei neuroni anche a specchio che di fatto aumenta il segnale. Ecco, il segnale che poi si trasforma in aumentata attivazione muscolare. Perfetto. Ti voglio e ti voglio ma non lo saprei. Scherzi, è già diciamo sapere che tu dici ancora non si sa molto di questo vuol dire che è così non so se mi spiego quindi è già un dato molto importante. Ti volevo chiedere un'altra cosa invece nella stessa situazione cioè possibilità di ampliare l'azione della mente che pensa a ciò che fa il muscolo. Tu in qualche modo hai già parlato dell'attivazione ideomotoria precedente il pensiero dell'allenamento l'effetto carpenter in qualche modo ecco prima di eseguire fisicamente quel tipo di lavoro e andare ad eseguirlo facendo in modo che la mente pensi a quello che fa il muscolo avere un attimo prima una ricerca ideomotoria dell'effetto carpenter secondo te può aumentare l'azione che la mente ha sul muscolo? Allora questo non è secondo me ma un paio di anni fa dei colleghi francesi che diciamo dove sono stato io in Francia per qualche tempo tra Be Sansone e Dijon hanno visto una cosa del genere e hanno fatto vedere che di fatto pensarlo prima di eseguire una massima prestazione di forza sembra migliorare la prestazione di forza Lo dico a sottovoce lo sapevo l'ho letto quel lavoro Abbiamo amici comuni Ti ringrazio ti ringrazio ti ringrazio molto Giuseppe è stato veramente bello il tuo intervento è molto esplicativo grazie ti saluto grazie grazie a tutti grazie a tutti